Pochi paesi al mondo possiedono per numero e varietà i scenari naturali del Messico. Solo qui il turista, in cerca di avventura e di contatto con la natura, può vivere tante esperienze all'interno di un'unica nazione. Il Messico ti offre un'ampia gamma di attività e di ambienti naturali. I suoi quasi 2 milioni di chilometri quadrati di superficie, i suoi quattro mari e le sue due catene montuose, fanno del paese uno dei più vari del continente americano. Ogni regione del Messico è unica dal punto di vista geografico e biologico. Nella zona nord-occidentale il deserto confina con l'oceano Pacifico e il Golfo di Cortez, dando origine a paesaggi di forti contrasti. I visitatori di questa regione resteranno sorpresi dalla quantità di flora e fauna che si possono trovare solo in Messico. La balena grigia ha scelto il Pacifico messicano per mettere al mondo la seguente generazione di cetacei. E poter osservare da vicino questi mammiferi marini costituisce una delle esperienze più incredibili che la natura possa offrire in tutto il mondo. Nel nord del paese, le montagne della Sierra Madre creano una serie di gole e canyon profondissimi, che offrono panoramiche indimenticabili. In questa regione la caccia è consentita, ma sempre sotto controlli rigidissimi. Gli scalatori e gli alpinisti saranno sorpresi dall'altezza delle vette della regione centrale del Messico. In alcuni casi si tratta di vulcani che superano i 5.000 metri di altitudine, coronati da nevi perenni. I fiumi che scorrono verso il Golfo del Messico formano delle rapide percorribili. I nostri esperti ti forniranno tutta l'attrezzatura necessaria per godere di questa emozionante attività, con la massima sicurezza. In Messico le possibilità per le immersioni sottomarine con o senza bombole sono infinite. Nei nostri quattro mari la vita è ricchissima, scogliere di corallo, grotte ed altre interessanti formazioni geologiche. Nello Yucatan puoi esplorare il Cenotes, una modalità di esplorazione in acque continentali che potrai conoscere solo da noi. In tutte le tue avventure sarai sempre a contatto con il gentile ed affabile popolo messicano. La loro ospitalità sarà senz'altro il ricordo più prezioso del tuo viaggio. La prossima volta, se pensi ad un viaggio pieno di avventure e di contatto con la natura, ricorda che in Messico potrai vivere esperienze che andranno ben oltre la tua immaginazione. Messico. Più di quanto immagini. Sì, è ovunque.